A tutti buonasera dal centro geofisico prealpino di Campo dei Fiori. Domani ben soleggiato con a tratti passaggio di nubi alte, asciutto, favogno in area pedemontana al mattino, gelate all'alba nelle aree riparate dal vento, qualche banco di nebbia sulla bassa padana, temperature minime in calo con valori compresi tra meno 4 e meno 1, massime previste tra 6 e 9 gradi.